E' stata riaperta la Basilica di San Nicola dopo il furto che si è consumato tra le 3 e le 5 di questa mattina. I gnoti si sono introdotti all'interno della chiesa rubando l'anello presente sulla statua del patrono di Bari e l'Evangeliario con le tre sfere, oltre ad un medaglione contenente una fiala della manna. Dopo i rilevi della polizia scientifica i fedeli sono tornati ad accedere alla Basilica. In tanti sono arrivati per guardare con i propri occhi la statua trafugata. Per noi abbiamo perso un valore inestimabile e quindi dal punto di vista affettivo io penso per esempio alla famiglia che ha donato quell'anello, che è tutta una storia di fede e di devozione e che a un certo punto viene in un certo modo violata e non è una cosa bella. L'atto sacrilego ha colpito l'intera comunità barese. Giovanni Distante, priore della Basilica, ha lanciato un appello all'autore del furto. Cosa devo dire? Chi si impropria di un qualcosa che non è il suo bisogna vedere per quale motivo l'ha fatto. Se ha dei motivi validi si tenesse ciò che ha preso. Diversamente deve senz'altro restituire. Ma San Nicola è testimone della misericordia di Dio. Noi dobbiamo sempre avere sentimenti di perdono e di misericordia verso tutti. E quanto più perdoniamo, più ci mostriamo misericordiosi, tanto più forse acceleriamo anche la conversione di queste persone.